Infliggere un colpo senza precedenti al nemico israeliano per promuoversi come il più potente attore palestinese non solo a Gaza ma anche nei territori occupati di Cisgiordania, spazzando via la leadership delegittimata di Abu Mazen. E' questo, secondo diversi analisti medio-orientali, il principale obiettivo di Hamas, una lettura che coincide in larga parte con quanto rivelato da Usam Badran, esponente dell'ufficio politico di Hamas, in esilio in Qatar. Secondo Badran, l'obiettivo delle trattative interpalestinesi è creare un'alleanza politica per gestire il dopoguerra, consentendo a Hamas di prendere il potere in Cisgiordania. Non combattiamo solo perché vogliamo combattere, non siamo a favore, ha spiegato Badran, di un gioco a somma zero. Vogliamo mettere fine alla guerra e creare uno stato palestinese a Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme. Il riferimento a Gerusalemme, affermano gli analisti, è retorico e serve come strumento per legittimare la propria azione davanti all'opinione pubblica interna e regionale. Quel che sperano di ottenere i capi politici di Hamas è cambiare a proprio favore gli equilibri nel feudo di Abu Mazen e in Cisgiordania. L'alleanza con Fatah sarebbe un primo passo verso la presa del potere, quasi assoluta. L'accordo dovrebbe infatti passare inizialmente per un governo di unità nazionale creato sotto l'egida dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Ma la leadership della storica formazione palestinese, ancora guidata dall'onnipresente Abu Mazen, rifletterebbe i nuovi equilibri politici favorevoli a Damassa.